Ciao ragazzi, ciao ragazzi, andiamo a fare un interattivo in due varianti e andiamo a chiedere alle carte utilizzando il mazzetto di Klimt. Guardate come sono belli, faccio vedere anche la scatolina per chi me lo chiede. Andiamo a vedere se si farà sentire a breve, dove per breve intendiamo da qui a due settimane. Allora, volevo anche aggiungere una cosa per chi mi ha ripreso sugli approfondimenti, non è una lamentela, è solo una comunicazione di servizio. Non è che io sto facendo gli approfondimenti all'interattivo del partner karmico perché vengono in mente al momento e sto apposticipando altre richieste avute da voi, assolutamente. Io ho semplicemente messo insieme nel corso delle settimane, facendo anche aspettare più del dovuto a altre persone, delle tematiche simili. Quindi per un po' di giorni avremo interattivi che vanno a toccare la questione del partner karmico, della relazione con un partner karmico, di tutto quello che può accadere. Lo voglio dire perché semplicemente non trovo carino, né corretto, essere ripresi quasi a voler dire tu stai preferendo una persona al posto di un'altra. Perché non è così, è solo una questione di comodità per andare incontro alle vostre richieste, per far sì che questi lavori tornino utili. È inutile parlare di un argomento e poi riprenderlo fra sette mesi. Poi gli eventuali approfondimenti ad altri consulti si faranno, ci mancherebbe. Però d'altronde io questa sono, il tempo questo è, è fare cose di fretta solo per far vedere che le abbiamo fatte. Mi sembra scorrettezza soprattutto nei vostri confronti. Soprattutto nel canale con gli interattivi gratuiti, dove io credo ci voglia la stessa serietà che per gli interattivi a pagamento. Però questo è il mio pensiero. Poi vabbè, giù a commenti, critiche, ditemi quello che volete, io ve lo volevo solo comunicare. Due varianti, rossa, gialla. Andiamo a vedere se questa persona si farà sentire a breve, da qui a 15 giorni. E lo andiamo a vedere con 5 carte per variante. Abbiamo mescolato al momento, non abbiamo fatto vedere niente. Variante gialla. Ovviamente ha validità dal momento in cui lo vedete. Allora, questa persona sta pensando già da un po' di tempo di contattarvi, però è come se non avesse un motivo per farlo. Cioè, tra di voi potrebbe esserci stata una discussione finita male, dove anche voi avete molto calcato, diciamo, il piede. Avete alzato i toni, avete posto dei limiti, avete innalzato delle barriere. Ma la cosa particolare è che questa discussione, per quanto abbia potuto far alterare il clima tra di voi, si è però conclusa in maniera naturale. In che senso? Tutte e due avete detto quello che dovevate dire, nel bene e nel male, l'avete detto e non c'è più nulla da dire. E questo rende difficoltoso il riavvicinamento. Allora, questa non è tanto una persona orgogliosa, è una persona debole. E per debole possiamo intendere anche individui che in fondo potrebbero essere compresi, perdonati, recuperati. Ma sento e vedo da questa carta che probabilmente voi, nei confronti di questa specifica persona, lo avete fatto talmente tante volte, questo accogliere, perdonare, dimenticare, recuperare, che in questo momento, sinceramente, non siete poi così ben disposte. O meglio, sicuramente vi devono passare i bollenti spiriti, si devono proprio quietare, le rabbie e tutto il ribollir interiore dei vostri sentimenti. Solo che questa persona non crede che accarrà. Cioè, questa persona è fortemente convinta che voi questa volta non vi dimostrerete più aperte così tanto da passare per l'ennesima volta sopra quello che è accaduto. Però, questa persona non ha chiuso interiormente con voi, né ha intenzione di chiudere. Il suo desiderio è proprio quello di ricontattarvi. Solo che si trova nella posizione quasi del desiderare che siete voi a contattare lei. Allora, prima cosa per questa prima variante. Qui la volontà di contatto c'è anche veloce. Paradossalmente, da questa prima carta, lui o lei sembra un individuo, appare come un individuo che non vuole, non ha intenzione di fare un passo, ma che sta fortemente aspettando che quel passo lo facciate voi. Vediamo un pochino perché. Sì, non solo. Sapete che cosa c'è? Io non so se avete la possibilità, nel concreto, di incontrare questa persona o sul luogo di lavoro o vicino al luogo di lavoro. E vi dirò anche che questa persona vuole che siate voi a muovervi verso di lei. E farà di tutto, tanto da diventare magari anche buonariamente ridicola, per farvi credere che sta attraversando un periodo di gioia, pagamento, felicità, una pienezza di vivere, proprio una vita piena di impegni, frequentazioni. E vi dico che potrebbe persino arrivare a chiedere a un amico o un'amica di far finta di uscire con lui per farvi ingelosire. È particolare questa prima variante, perché la risposta alla domanda potrebbe essere sì, ci sarà questo contatto. Il problema è che questo contatto, questa persona farà di tutto da quei 15 giorni per muovere voi a contattare lei. Questa è la cosa particolare. E secondo me, chi sta seguendo questo interattivo e si ritrova in questa prima variante, e ora ha anche modo di osservare sotto un altro punto di vista quello che accadrà sapendolo in anticipo e vi divertirete tantissimo. Cioè, pensate solo a far credere a questa persona che anche voi allo stesso tempo state frequentando altri, vi state divertendo quando lui passerà dinanzi, non so, al vostro ufficio, con a fianco una biondona o una moracchiona oppure una donna con un bel fusto. Immaginate voi ad iniziare un gioco del genere. Cioè, alla fine vi ritrovate ad abbracciarvi e perdonarvi, secondo me, perché poi è come se ci fosse un'attrazione molto forte, nonostante tutto. Non voglio giustificare né quello che è accaduto. Eh sì, sapete quando si dice, lo ammazzerei però... Però poi alla fine non lo faccio. Cioè, al colpo di grazia non lo date. Qui vedete, abbiamo questo personaggio che sta per colpire questa specie di, potremmo dire, minotauro, comunque questo toro, comunque è come un po' nell'arena quando stiamo per dare l'ultimo colpo, poi staccheremo l'orecchio, lo mostreremo al pubblico, forti della nostra vittoria, ma ci rendiamo conto, ancora prima, di infierire con il colpo fatale che non solo non abbiamo cuore di farlo, ma non lo vogliamo proprio fare. Cioè, non avremo cuore di farlo con nessuno, figuriamoci con questa persona. Anche se se lo meriterebbe. Guardate la plasticità di questo set di bastoni, con questo personaggio che è completamente in linea con il suo agire. Cioè, il suo pensiero, il suo agire sono perfettamente allineati. Quindi, in realtà, interiormente, c'è anche il desiderio di concludere questa storia, dire finalmente una volta per tutte mettiamo una pietra sopra. Cioè, lo do io il taglio, lì dove non lo dai tu, perché se è così come il toro, bello, piantato, a terra, rimovibile, solido, e anche ostinato, allora arrivo io, però non ce la faccio. Anche solo fingere questa posizione, anche solo farti credere che sto per scagliare questo colpo, che sto per tagliare per sempre le comunicazioni tra di noi, ecco, non lo riesco a fare guardandoli in faccia. Se ti guardo in faccia, poi quegli occhi mi inteneriscono, poi io alla fine ti perdono, io alla fine non riesco a portare avanti il mio intento. Allora, devo abbassare la testa, però il colpo non lo scaglio. Vediamo un po' come andrà la situazione. Allora, voi volete mantenere il punto, non volete dargliela vinta, però va detto una cosa, e neanche voi siete così forti in questo momento, e così convinte di volerla tirare per le lunghe. Cioè, il punto è questo, alcuni di voi che stanno seguendo questa prima variante sanno che è solo questione di tempo, ma alla fine daranno, concederanno l'ennesima possibilità a questo individuo, uomo o donna che sia, di palesarsi nella sua vita, nella propria vita. Il problema forte adesso qui è decidere quanto tempo far durare questa pausa. Va detto però per onestà con se stessi, già il semplice fatto che stiate seguendo questo interattivo per sapere se si farà sentire a breve, che dentro di voi questo pensiero è radicato come lo è in lui. Qui c'è una dinamica che sicuramente andrebbe approfondita per capire bene cosa è successo, cosa vi lega, cosa non vi lega, eccetera, eccetera, ma non è, diciamo, argomento della domanda di questo interattivo. Qui siete fortemente combattute da un ragionamento puramente logico, tanto se poi alla fine lo faccio rientrare nella mia vita, tanto vale che lo faccia subito. Il problema, ciò che vi spaventa, è la certezza che tanto si ripeterà sempre questa dinamica ciclica che sembra non portare comunque a nulla e paradossalmente siete sempre voi, almeno da quando conoscete questa persona, ad aver perdonato questa persona. Mai il contrario. Per un motivo o per un altro, ogni volta le discussioni si sono chiuse con una forte litigata che poi vi porta a un equilibrio, anche se nella rottura, dove quel che deve essere detto viene detto, solo che poi dopo, nonostante quello che si è esternato interiormente di pancia, resta un'attrazione, un legame molto forte. Che vi devo dire, qui siete tutte e due sulla vostra posizione fermi immobili, e tutte e due state pensando l'uno all'altra. Nessuno dei due vuole muoversi, lui ha un grande desiderio di incamminarsi, ma veramente non ha basi, non ha nulla a cui appoggiarsi. Cioè, questa persona si rimetterebbe in marcia, anche metaforicamente, verso di voi se solo avesse una qualsiasi scusa sulla quale fare leva, su cui appoggiarsi, per avvicinarsi a voi, anche per prenderla alla lontana. Voi, dal canto vostro, in questa discussione, uscite vincitrici, cioè la corona dell'oro è la vostra. Voi avete il polio in questa diatriba, in questo momento, e avete molte più frecce nella vostra faretra, non solo. Siete anche concretamente molto più solide, radicate, e anche preparate a un'eventuale ulteriore, non dico discussione, però apertura di dialogo. Il punto è che, in questa situazione, rispondere è, tra virgolette, difficile, perché la risposta è sì, lui si vuole far sentire, perché lui comunque lo vedrete, lui o lei che sia. Vedrete tantissime cose che farà per cercare di attirare la vostra intenzione, attenzione, scusatemi, con l'intenzione di muovervi a contattarlo, contattarla. Quindi la prenderà talmente alla larga che il suo movimento vorrebbe quasi diventasse il vostro movimento verso di lui per giustificare poi il suo movimento di ritorno. Io mi scuso se posso essere stata un po', magari, non fumosa nei concetti, ma aver utilizzato delle parole sinonime che a volte possono aver creato un pochino di confusione, ma credo che in realtà il messaggio sia giunto. Vediamo quella seconda variante. La prima è un po' così, cioè la risposta è positiva di per sé, se quello che vi interessa è che questa persona si faccia sentire. Perché poi, poniamo che voi volete solo sapere se si farà avanti, perché in realtà volete fuggire questo incontro, allora sappiate che se non vi muovete succederà nulla. Perché non ha pezzi d'appoggio per venire da voi. Anzi, se non vi muovete in questa occasione, probabilmente non gli darete proprio pezzi d'appoggio più neanche per il futuro. Dipende da voi. Lo sciattro lo avete voi, il coltello dalla parte del manico lo avete voi, la corona dall'oro lo avete voi. Seconda variante. Si farà sentire da qui a 15 giorni. Allora, bellissima questa carta. Vi sta osservando, osservando, scusatemi, vi sta osservando, vi spia sicuramente le social, ma non solo. Questa è una persona che forse abita anche vicino da voi, vicino nella vostra, cioè nella vostra zona, non lo so, nel vostro quartiere, oppure ha possibilità di vedervi in occasione di eventuali spostamenti giornalieri che fate. non si fa sentire, non ha alcuna intenzione in questo momento di farsi sentire, però si informa su di voi, non solo seguendo magari gli aggiornamenti dei profili social, ora non so se qui voi avete bloccato questa persona, perché per alcuni di voi o si nasconde dietro un profilo falso, e se un uomo dirà un profilo di donna, se una donna dirà un profilo di uomo, fate attenzione, provate a osservare se qualcuno vi ha chiesto un'amicizia ultimamente, che non conoscete, scusatemi, vi faccio vedere meglio la variante, la rossa, la variante rossa, e inoltre questa persona chiede di voi a terze persone che hanno contatto diretto, ma non chiede di voi con la curiosità morbosa di sapere cosa fate, nel senso perché è gelosa, no, non da a vedere questo, non da a vedere partecipazione di sentimento o malessere, chiede di voi in maniera abbastanza fastidiosa, anche asettica, tanto che la persona di mezzo potrebbe essersi anche un pochino scocciata di fare un po' da tramite, però si vede che ha una parentela, un'amicizia tale per cui non si può sottrarre da questo ruolo, almeno non in questo momento, e questa persona, che non ha intenzione di parlarvi in questo momento, di contattarvi, vi sta studiando, perché è come se stesse cercando di mettere insieme delle prove per accusarvi di qualcosa e incastrarvi su qualcosa, è una persona che sta proprio in maniera scientifica cercando di creare una sorta di contesto che poi sarà la premessa che è un contatto futuro che arriverà, ma non da qui a 15 giorni, no, infatti è qualcosa che è in fieri, è un qualcosa che sta crescendo, che ha bisogno delle sue tempistiche, che ha bisogno di rispettare la durata necessaria affinché possa venire alla luce, e non è un qualcosa così che accade tanto per, come una gravidanza, ora di là di quando leggete sui giornali a nove mesi si accorge di essere incinta, non lo sapeva, no, qui la cosa si sa fin dall'inizio, cioè dove vuole andare a parare questa persona, quello che sta serbando in grembo e nella pancia, al di là della vita, delle nuove nascite, del Sacro Graal, c'è anche la rabbia, la frustrazione, c'è il fegato, ci sono organi anche importanti da quel punto di vista quando ti rodi il fegato, però al di là di questo, qui c'è un, proprio coltivare questi sentimenti non del tutto positivi, che richiedono per poi manifestarsi una loro durata naturale, quindi non prima, non dopo, ma al momento giusto, e questa persona, proprio volontariamente, volutamente, e con coscienza, nutre questa sorta di preparazione all'azione, quindi è lì che sta mettendo assieme i pezzi, però va detta una cosa, non per forza lo sta facendo in maniera onesta e corretta, cioè non sta mettendo i pezzi del puzzle seguendo l'ordine di questi ultimi, ma è come se stesse cercando di forzare alcuni pezzetti per farli quadrare nell'ordine logico con cui ve li vuole poi ripresentare, quindi state allerta, non cosa grave, ma se chiedete di una persona, nello specifico, che un po' corrisponde, che potrebbe anche avercela un po' con voi, ecco, è in stato di sonno, ma non per questo, non sta agendo, e preparando un bel, diciamo, un bel colpo, direi quasi alle spalle, in realtà, però in parte ve lo state già figurando, quindi adesso un po' ve lo aspettate, non è che vi coglie proprio di sorpresa, però state in guardia, quello sì, state attenti, sta iniziando a mettere un po' i paletti intorno a voi, ricordatevi che il 4 ha sempre a che fare, anche come significato, con il quadrilatero, comunque con una figura chiusa e statica, a differenza della sfera che può rotolare, triangolo, quadrato comunque hanno una staticità maggiore, e il quadrato comunque ha anche una simbologia utilizzata per rappresentare, non so, la casa, la prigione, anche nei disegni, andando a ritroso, quindi anche a livello archetipico, comunque il quadrato sembra sempre, scusatemi, un luogo chiuso, un qualcosa nel quale si resta anche incastrati, poi può essere anche la solidità, la stabilità, tante altre cose, il mattoncino, la prima pietra sulla quale costruire, può avere tanti significati, però è anche quello di mettere i paletti per delineare, scusatemi, uno spazio chiuso, d'altronde se andate in un campeggio, iniziate a montare la vostra tenda, voi mettete intanto i picchetti intorno ad uno spazio di solito quadrato rettangolare, per poi agganciare tutto e quindi dare staticità, solidità, fermezza, ecco qui c'è un tentativo di inchiodarvi come questi paletti, dinanzi un'evidenza che non per forza è tale perché è sincera, questa evidenza è reale, ma perché è preparata, cioè qui siamo proprio, è come se stessimo di un film tagliando i fotogrammi per dare una certa versione di di quel film, quindi chi poi vedrà il film ridotto, riassunto, non potrà rendersi effettivamente conto di come sono andate le cose, perché ci sono tante parti che vengono messe, ecco, anche l'espressione stato di sonno che si utilizza per i maestri, massoneria, comunque per le persone fuoriuscite dalla massoneria, non è che non sono più persone, diciamo, addentrate a certi discorsi, a certe dinamiche, però è come se non esercitassero in quel momento, si dice stato di sonno, senza grembiule, vabbè, varie cose, adesso non stiamo ad approfondire, questa è una persona che apparentemente sta lì e dà l'impressione di non fare niente, di non esserci, neanche di esistere, però in realtà dentro questa testolina, solo questa persona sa che mondi, e che infiniti universi, si stanno disvelando, si stanno così manifestando, sta ragionando dentro di sé, e dà poco a vedere all'esterno, e porta dentro di sé un profondo tormento, va detto anche, non a sua discolpa, però va detto, perché ci siamo, che questa persona fondamentalmente ha un profondo malessere, questo profondo malessere la mette in una condizione di, oramai, aver puntato solamente verso un unico obiettivo, è come se non vedesse più niente intorno a sé, è come se fosse talmente arrabbiata da dire, perfetto, c'è qualcosa della mia vita che non va bene, c'è qualcosa che si è completamente disintegrato, che è andato distrutto, che mi sembra non fluire più come un tempo, basta, io voglio che quello che provo io, lo provino tutti, anzi, se io provo uno su dieci, tu devi provare dieci, in questo momento, non so perché, questa persona ce l'ha tantissimo con voi, che cosa sia successo, non lo stiamo indagando, perché anche per questa seconda variante, non è questa la domanda, forse c'erano delle aspettative che non avete mantenuto, o forse questa persona si era fatta delle illusioni su di voi, che poi non si sono rivelate tali, sicuramente è una persona leggermente problematica, non dico patologica, per alcuni potrebbe esserci anche il patologico, anche il narcisista, anche proprio il caso estremo, ma non per tutti, perché poi è anche un interattivo generale, quindi state attenti, perché comunque quello che vi darà, sarà una versione capovolta della realtà, se voi non sapete che questa persona all'improvviso, vorrebbe tornare a bussare alla vostra porta, non per aprire il dialogo, ma per inchiodarvi, come abbiamo detto, dinanzi a un'evidenza che poi tale non è, ecco, se voi, diciamo, venite colte, di sorpresa, potreste essere facilmente, diciamo, messi in difficoltà, quindi, se qualcuno di voi si riconosce in questa seconda variante, l'invito è semplicemente a fare attenzione, e quantomeno a prepararsi, a vedere presentate dinanzi a sé, situazioni, accuse o prove, che non stanno né in cielo né in terra, e quindi coltivate nel frattempo, una elasticità mentale tale, da poter rispondere anche dinanzi a una cosa, che non potete ora immaginare, perché l'effetto sorpresa, purtroppo a volte, mortifica e blocca, quindi, cosa accade? cercate di non trovarvi in condizioni di sudditanza, né di minoranza, né di inferiorità, e quando questa persona si presenterà a voi, nelle migliori vesti possibili, con la migliore intenzione, mesta, anche magari scusandosi, cioè, state attenti, perché, quando il diavolo vuole l'anima, come si dice, quando il diavolo ti accarezza, vuole l'anima, quindi questa persona, quando deciderà di tornare nella vostra vita, di farsi sentire, non sarà da qui a 15 giorni, ma dopo più giorni, dopo più settimane, arriverà prima in maniera molto delicata, il colpo non viene scagliato subito, lo fa per andare subito a coinvolgere la parte emotiva di voi, la parte più ingenua, quella più esposta, quella più fragile, per far sì che voi vi fidiate ciecamente, senza protezioni e filtri di lei, verrà così, a mani vuote, e se voi avete dinanzi le mani vuote, come potete mai immaginare che con le mani possano darvi una coltellata, però non dimenticate una cosa, una mano non è violenta solo perché è un coltello, una mano vi può dare un pugno, vi può dare uno schiappo, vi può anche soffocare, cioè per dire, andate oltre le apparenze, questo non è per spaventarvi, perché ovvio che non viene a picchiarvi, spero di no, è tutto un discorso più metaforico che concreto, però cercate di non farvi incastrare, di non mostrarvi in una condizione di inferiorità, siate furbi, siate come Davide contro Golia, cioè preparatevi la fionda, o quello che sia, quel piccolo colpo, non andate totalmente nudi incontro a questa persona, e non sentitevi in colpa, dicendovi, no vabbè ma magari adesso sto pensando male di lei, guarda come si presenta bene, guarda come è pentita, valutate voi, io vi consegno questa seconda variante, così come la prima, vi ringrazio, soprattutto per la pazienza che avete, quando mi sopportate, nei momenti in cui, poiché la voce si abbassa di più, faccio gli interattivi mangiando una caramella, perché quella è la volta giusta e buona, in cui veramente, ogni tanto creo, un neologismo che non sta né in cielo né in terra, però detto ciò, credo che voi riusciate a comprendere le mie buone intenzioni, io vi ringrazio profondamente, vi mando un abbraccio ed un bacione, fatemi sapere, sono curiosa, soprattutto per la seconda variante.